La prima persona per essere in questa famiglia che ha avuto una depressione. Di essere stata vittima di depressione, di aver sofferto di depressione e di aver anche pensato al suicidio. Tutti elementi che ritroviamo in parte anche nel racconto di Meghan Markle e di Harry nella serie tv Netflix di sei puntate in cui i due hanno voluto raccontare in prima persona la loro storia. C'è un momento per ricollegarmi al discorso di Lady Diana in cui un amico della coppia, tra l'altro colui che li aiuta, quando fuggiranno, perché saranno costretti a fuggire in Canada, li aiuterà a nascondersi e ad avere una casa. Tyler Perry, se non sbaglio. Questo loro amico racconta che ha notato una similitudine rispetto a quanto è successo con Lady Diana. Racconta che una volta che si separò dal marito, da Carlo, Diana venne assalita letteralmente dai tabloid che le fecero la guerra e dice una frase che mi è rimasta impressa. Nel momento in cui ti tiri fuori, ti massacrano e ti uccidono letteralmente. I tabloid uccidono. Penso sia questo il senso più profondo di questa serie e di questa storia. Abbiamo visto in tantissime salse il racconto di Harry e Meghan a partire dalla famosa intervista con Oprah Winfrey che è andata in onda nel 2021 e in cui per la prima volta i due hanno voluto raccontare i motivi per cui si sono allontanati dalla casa reale. Poi c'è stata questa serie tv su Netflix, i due avevano un accordo su Netflix e all'inizio della serie spiegano che hanno voluto fare questa miniserie, questa docuserie se vogliamo, per raccontarla in prima persona. C'è Meghan che dice preferite sentirla dagli altri come è stato fino adesso o volete sentirla da noi, la nostra storia, quello che ci è successo. Per non parlare del libro appena uscito, Sper, di Harry in cui ci sono dettagli che vanno ancora più nello specifico dei complicati rapporti che aveva accorte e legati alla storia della famiglia reale e a tutto quello che è avvenuto fuori. Ma andiamo con ordine parlando di questa serie, la serie tv su Netflix che si intitola Harry e Meghan. Meghan, come dicevo, è una serie tv di sei puntate che esplora da vicino quello che è successo dal punto di vista della coppia. Cercherò di fare una prima parte analizzando la serie e poi vi dirò alcune considerazioni anche sul fatto di come Harry e Meghan e il palazzo ha gestito questa vicenda. Harry e Meghan raccontano di come si sono conosciuti, si sono conosciuti a Wimbledon, lei attrice americana della serie Sweets durante queste partite di tennis, gli spalti, Harry nota questa bellissima ragazza e insomma lei si vede arrivare un messaggio, una mail con cui lui le chiede di uscire e escono una volta, insomma vanno a mangiare una cosa insieme e scatta la scintilla. C'è stata subito la scintilla ed è nato un amore che sinceramente anche da quello che si evince, i racconti dei protagonisti, che non solo raccontano parlando nell'intervista, ma mostrano i filmati, le storie, i post su Instagram, i video che facevano dentro casa anche rispetto a quello che c'è stato tra il 2017 e il 2021, anche perché poi c'è stata la pandemia di mezzo, che è stato il momento insomma più complicato e particolare per questa coppia. Entra piano piano a far parlare di sé parecchio, perché poi una cosa importante che riguarda la famiglia reale c'è questo cerchio magico di tabloid e di giornali che si occupano di tutto quello che fanno i reali, è una cosa assurda che mi sono reso conto che è molto complicato e che credo che non sia per tutti, anche una vita di questo tipo, sempre sotto i riflettori, ogni cosa che fai viene comunque buttata sulla stampa e dava impasto ai lettori, qualsiasi parola, qualsiasi virgola, ed è una cosa che mi ha fatto capire quanto William e Henry siano diversi e quanto Carlo e Diana fossero diversi all'epoca e quanto, insomma, Meghan è riuscita a non essere fagocitata da questa cattiveria, da questa negatività che c'è intorno all'informazione, alla stampa, perché poi la famiglia reale non è che io abbia sentito di grossi scandali o cose veramente, cioè, da arresto o da... cioè, una cosa che si evince è che poi i giornali comunque fomentano e alimentano domande e odio e la prima cosa che si era notata quando i due si sono messi insieme e quando il rapporto è venuto fuori è che lei fosse, non di colore, ma comunque avesse origini afroamericane. E inizialmente questa cosa, che era stata vista molto positivamente, anche perché, insomma, durante i loro viaggi i due hanno avuto modo di legarsi e confrontarsi anche con delle realtà che vedevano in Meghan un punto di rottura, magari con il passato, con quel, insomma, modo di essere vita reale con donne all'altezza perfette, precise, bianche, provenienti da famigliaggiate, Meghan è una ragazza normalissima, si intervista anche la mamma nel corso della serie e una cosa che mi è rimasta impressa è che è una ragazza molto solare, molto sorridente, che nonostante tutti i problemi che poi ci sono stati nel corso degli anni è rimasta sempre col sorriso sulle labbra e credo sia una classica ragazza americana che si è innamorata di un altro ragazzo che però è europeo, britannico, ed è un principe, e questo è un dettaglio non da poco. Insomma, i due si sposano e abbiamo visto che nel corso degli anni c'è stata sempre più la polemica intorno al fatto che i due potessero oscurare il fratello William e Kate, e cioè la coppia che viene prima sulla scala cronologica e genealogica della regina Elisabetta II nella serie si iniziano ad affrontare dei problemi e di carattere puramente di parole che sono uscite fuori in alcuni discorsi e che sono state riportate sui giornali oppure insinuazioni che sono state riportate sui giornali e che hanno fatto male alla persona Meghan e quindi anche alla coppia perché poi, insomma, alla fine, devo dire, anche Harry non è da tutti prendere una decisione come quella che ha preso. C'è una scena in cui nasce Archie, il loro primo figlio e sui social comincia a circolare la foto di una coppia che tiene per mano una scimmia un'immagine bruttissima che mi ha fatto veramente storcere il naso e mi ha fatto, no, mi ha fatto veramente schifo mi ha fatto vomitare perché permettersi anche di, insomma, solamente perché lei ha origine afroamericane e perché si diceva c'è una negra in famiglia c'è una donna di colore in famiglia sì, all'inizio poteva sembrare un punto di rottura a un certo punto è venuto fuori che lei voleva rivoluzionare totalmente la casa reale che lei era egocentrica e che voleva mettersi sul piedistallo voleva apparire molto di più della cognata e a che addirittura potesse dare del filo da torcere alla regina nonostante che nel corso della serie Meghan Markle parli benissimo parli solo che bene della nonna di Harry dei nonni, insomma, e della famiglia non ho sentito, una cosa mi è rimasta impressa non ho sentito parole d'odio, insulti o allusioni a membri della famiglia reale ma su questo ci arrivo tra poco perché se da una parte Harry e Meghan poi nel corso degli anni si sono visti in un certo modo accertiati dai tabloid e da tutto quello che succedeva intorno a loro Harry è un ragazzo totalmente diverso da William William probabilmente è fatto per essere principe e in futuro forse probabilmente re però Harry ha un carattere diverso ce lo ricordiamo già da quando era piccolo i piccoli scandali piccoli insomma, pure quella storia del costume da nazista un carnevale, insomma, lui è una festa in maschera si vestì da nazista fu pesante lui però racconta pure che è una cosa di cui si vergogna una cosa bruttissima di cui si vergogna tantissimo e che non si farebbe mai una cosa che mi è rimasta impressa è che nel corso della serie mano a mano i due vengono insultati gratuitamente ci si mette anche il padre di Meghan che non c'era mai stato nella vita della figlia o perlomeno non era mai stato presente come la madre e che a un certo punto comincia a parlare male di lei sui giornali o la sorellastra di Meghan che per farsi pubblicità e su questo ci credo anche perché è evidente e purtroppo gli esseri umani hanno molti lati oscuri che vengono fuori nel momento in cui qualcuno vicino a te diventa tra virgolette famoso ma lei l'ho sempre vista come una ragazza come la classia californiana i californiani sono così sorriso sulle labbra abbracciano sono molto alla mano e si vedeva l'amore che usciva fuori quando i due stavano insieme e si vedeva proprio che era una coppia che si amava e credo che il loro sentimento fosse reale a un certo punto Meghan racconta di aver cominciato a soffrire per tutte queste cattiverie che cominciavano ad uscire sulla stampa e che circolavano non solo a Londra ma per tutta la Gran Bretagna e quindi poi nel mondo perché poi le storie che riguardano la famiglia reale rimbalzano facilmente anche a livello internazionale comincia a soffrire di depressioni e a un certo punto racconta di aver pensato anche al suicidio c'è la mamma commossa in lacrime che racconta questa cosa e sentire una figlia che pensa al suicidio perché è nera perché è di colore perché è una rivista perché è egocentrica perché vuole fare le scarpe alla cognata o addirittura alla regina Elisabetta sono cose che fanno male e qui c'è quella similitudine della depressione e il rischio suicidio che aveva provato probabilmente anche Diana in questo caso Henry che si rende conto che sua moglie non sta bene e che c'è qualcosa che non va e che per troppo tempo si è nascosta la testa sotto la sabbia come si suol dire decide di aprirsi e di parlarne col padre e il fratello però purtroppo da quello che insomma raccontano loro ha fatto scandalo il fatto che loro volessero allontanarsi per cercare una soluzione perché sennò la coppia si sarebbe sfasciata e avrebbe fatto esattamente la fine del padre di Carlo che represso quello che vi pare è rimasto lì ha perso la propria donna Diana e non ha voluto rinunciare insomma all'istituzione per amore non si è reso conto di quanto stesse male la propria donna perché poi ci sono immagini ma hanno fatto veramente schifo ecco la parola giusta è che i paparazzi nei momenti meno opportuni continuamente la paura di vivere e di uscire di casa di stare con un bambino e di giocare con tuo figlio in giardino perché hai il drone che te vola sopra a casa e che sei costantemente in ansia per quello che dice e che fai credo che queste cose possano essere molto pericolose per la psiche umana e possano portare una ragazza perché poi alla fine dei due ragazzi stiamo a parlare a pensare alla depressione e quindi al suicidio per arrivare al momento in cui Harry parla col padre e il fratello che però inizialmente dicono ok voi volete continuare ad aiutare a sostenere la regina però ve ne volete e no dovete prendere la decisione belli perché se ve ne andate ve ne andate ve togliamo la sicurezza se togliamo i fondi va beh insomma e raccontano durante la serie che probabilmente queste minacce sono state fatte pensando che loro tornassero indietro loro per fortuna conoscono conoscono Perry vanno in Canada e riescono a trovare una via d'uscita anche grazie alle altre persone e penso che non sia stato facile per Harry prendere la decisione di staccarsi completamente dalla famiglia reale allora le mie considerazioni è vero che loro non dicono mai non fanno mai nomi e cognomi ok tu dici che hai tu Megan dici che hai fatto notare che all'interno della insomma della vita di palazzo e all'interno della casa reale ci sono stati ci sono stati episodi che ti hanno fatto sentire in pericolo e che ti hanno portato alla depressione a pensare al suicidio chi quando come nessuno ti ha aiutato la casa reale in camp alasso ha fatto sapere che verranno presi tutti i provvedimenti per tutte le persone che hanno anche mostrato episodi di razzismo nei suoi confronti però è anche vero che secondo me ok allora o la dici tutta o non tiri il sasso e nascondi la mano come se dice a Roma è giusto insomma che tu dica nomi cognomi per tutta la serie e anche nell'intervista famosa di Oprah Winfrey loro non scendono nei dettagli ed è forse una cosa che avrebbero dovuto fare ormai ci stiamo stiamo a ballare diciamola tutta probabilmente è un qualcosa che poteva esserci che avrebbe dovuto esserci la cosa che mi rammarica di più è questo rapporto tra fratelli che si è andato man mano a peggiorare anche il rapporto padre figlio probabilmente Carlo non si è mai reso conto di una delle più grandi verità e lo dico insomma a tutti che forse la verità è sotto gli occhi di tutti ed è la cosa più semplice perché noi siamo abituati a complicarci la vita ma dobbiamo capire che certe volte la risposta è quella più semplice di tutti perché la vita è molto semplice semplicemente Harry ha un carattere diverso da William semplicemente una persona che vuole vivere la propria vita non già programmata come quella che è stata per suo padre quella che sarà per suo fratello non siamo tutti uguali accettare il fatto che una persona voglia decidere chi essere di dove e come vivere la propria vita e di scegliere l'amore la coppia la famiglia anche perché parliamo tanto di famiglia e diciamo la famiglia reale Harry si è costruito la sua famiglia ed è giusto che lui si concentri sulla sua famiglia quella è la sua nuova famiglia quella è la famiglia che sta costruendo con Meghan che tra l'altro ha avuto anche un aborto lei racconta quando sono andati in Canada quando sono scappati c'è stato anche questo brutto episodio e un altro problema grosso è che continuamente mettevano a paragone Enrico William Enrico col padre Meghan con Diana mettevano continuamente a paragone Meghan con Kate e questo è il problema perché nel momento in cui vengono paragonate le persone a livello psicologico si crea ansia e frustrazione e si mettono le persone contro ecco perché poi a un certo punto anche il rapporto tra fratelli e tra cognate evidentemente è andato a puntane come si suol dire ma è questa la cosa più semplice secondo me è che erano due persone che semplicemente erano diverse e che vedevano la felicità in un altro modo in modo totalmente opposto a quello che era stato programmato per loro e non c'è niente di male a sentirsi a sentirsi così insomma ad accettare che quella non è la loro vita e che hanno voluto decidere di fare di vivere un'altra vita e non penso sia stato facile per Harry perché è stato un taglionetto rispetto al passato però sicuramente hanno salvaguardato la coppia e il loro amore che personalmente penso sia vero reale e poi sicuramente c'è tutta la parte del ok hai fatto l'intervista la serie tv il libro c'è stai pure un po' no a fai i sordi su sta storia però quello decisione sua l'ha voluto dire forse ribadirlo così in tutte le salse lo dici una volta in faccia a tuo fratello a tuo padre e se poteva tranquillamente chiuderli però a noi ci piace a noi ci piace il gossip ci piace ghiacchiera sempre con rispetto ma ci piace ghiacchiera ci piace sapere ci piace sapere quello che fanno che poi alla fine insomma ci rendiamo conto che i problemi reali sono totalmente i problemi della vita insomma quelli reali sono veramente altri fatemi sapere se l'avete vista la serie su Harry e Meghan e iscrivetevi al nostro canale youtube cacchiazione seguiteci su facebook e instagram dove quotidianamente postiamo news legate al mondo del cinema e delle serie tv al prossimo video grazie a tutti